Elezioni, i democratici fanno il pieno alle europee, regionali e amministrative. Arrivata in Italia la salma di Endi, il fotoreporter ucciso in Ucraina. La tv polacca alla Lumsa, il progetto Erasmus a 27 anni dalla sua nascita. Addio agli Aruselski, il generale comunista tra Valesa e Vojtila. In scena al Vittoriano, i beni dell'antichità salvati dalla Guardia di Finanza. Da Cerci a Baggio, i rigori sbagliati più famosi del calcio. Benvenuti al telegiornale di Lumsa News. Vediamo i risultati delle elezioni europee dello scorso 25 maggio. Benché i popolari mantengano il primato dei seggi ottenuti e i socialisti si confermino, secondo Forza Bruxelles, sono state le formazioni politiche roscettiche, eurofobe e xenofobe, a ricevere un robusto rinforzo elettorale in tutti i 28 Paesi membri. In Italia esiti altrettanto significativi. I democratici hanno vinto su tutti gli altri, con percentuali di preferenze degne della democrazia cristiana nella Prima Repubblica. Piemonte e Abruzzo avranno governatori PD. E' eletti sindaci democratici a Firenze, Perugia, Pesero e Ferreara. Prato è passata al centro-sinistra, mentre si va ai ballottaggi a Livorno, Bergamo, Cremona e Padova, dove i Dem sfidano la Lega. Il Movimento 5 Stelle è adesso il secondo partito italiano. E' tornata in Italia con un volo di Stato la salma del fotoreporter italiano Andrea Ronchelli. Ad attenderlo il ministro degli esteri Federica Mogherini. Intanto in Ucraina, dopo le cruente battaglie dei giorni scorsi, le truppe governative sono entrate a Donetsk, il servizio di Raffaele Sardella. Andrea Ronchelli si trovava nella regione del Donetsk, nell'Ucraina dell'Est, una zona calda dove gli scontri tra le forze governative e le milizie dei separatisti sono molto accesi. Il fotoreporter si stava avvicinando in auto alla città di Slovians, una roccaforte degli indipendentisti circondata dalle postazioni dell'artiglieria ucraina. Come racconta il tassista che accompagnava Ronchelli insieme all'interprete e ad un reporter francese, l'attacco sarebbe iniziato all'improvviso, nei pressi di una torre della televisione, presidiata da alcuni giorni dalle forze governative. Sono usciti dalla macchina e hanno iniziato a fare fotografie. Poi abbiamo sentito delle raffiche di mitragliatrice. Ero terrorizzato e sono saltato nella scarpata per cercare riparo. Gli altri hanno fatto lo stesso. Eravamo seduti là quando hanno cominciato a piovere i colpi di mortaio. Il primo ci ha mancato di poco. Poi il giornalista italiano e il suo interprete sono stati colpiti. Il giornalista italiano ha perso la vita insieme alla sua guida, Andrei Mironov, mentre i loro due compagni di viaggio sono riusciti a fuggire riportando lievi ferite. Andrea era in Ucraina da tre settimane, dove conduceva con grande passione un lavoro, quello del reporter freelance, scarsamente remunerato e tutelato da parte dei grandi editori. Il progetto Erasmus compie 27 anni. Una troupe della TV polacca è venuta alla Lumsa per Marta, studentessa dell'Università di Varzavia, per riprendere una sua tipica giornata romana. Vediamo com'è andata nel servizio di Domenico Cappelleri. Marta ha 23 anni e da settembre studia alla Lumsa grazie al progetto Erasmus. Il suo è il volto sorridente di una studentessa che, in un periodo in cui l'Unione Europea viene messa in discussione, è libera di poter studiare in tutta Europa, come tanti. Una troupe della TV nazionale polacca è arrivata a Roma per riprendere una sua tipica giornata italiana e l'ha intervistata. Il progetto Erasmus è importante perché consente ai giovani di studiare per un anno all'estero. Gli studenti sono entusiasti di questa opportunità. Io ho raccontato 12 episodi sulle tematiche europee e l'ultima riguarda il progetto Erasmus, la vita degli studenti in tutti i paesi e il budget impiegato per il progetto comunitario. Noi non ci occupiamo solo degli studenti polari, ma cerchiamo di raccogliere le storie e le opinioni dei ragazzi in paesi differenti. Il progetto Erasmus è nato nel 1987 e dà ogni anno a migliaia di studenti comunitari la possibilità di studiare nei paesi dell'Unione Europea. Marta frequenta la facoltà di lettere all'Università di Varsavia e ha imparato bene l'italiano. Martedì scorso ha sostenuto l'esame di linguistica generale. Come sarà andata la prova? È andato bene, ho preso il 28, quindi è abbastanza bene. Devo parlare tante cose, vocalismo tonico, dialetti settentrionali, lomba di starberti, però è abbastanza bene a dire. Sei soddisfatta del voto? Sì, il 28 per me va bene, è bellissimo. È morto a 90 anni il generale Jaruzewski, protagonista della storia della Polonia del secondo novecento. Il servizio di Carlotta Dessi. Dopo una lunga malattia, si è spenta all'età di 90 anni Wojciech Jaruzewski. Personaggio controverso a causa dei suoi rapporti complicati con l'Unione Sovietica, il generale polacco viene ricordato soprattutto per le sue scelte politiche. Dalla legge marziale introdotta nel dicembre del 1981 per contrastare l'attività di Solidarnoš, sindacato autonomo dei lavoratori solidarietà, ai dibattimenti della Tavola Rotonda nel 1989 che traghettarono Varsavia fuori dall'influenza sovietica e verso la democrazia. Sempre taciturno e incapace di esprimere qualsiasi tipo di emozione, con l'aiuto di Giovanni Paolo II si piegò al dialogo con l'Eck Valesa, aprendo così la prima fessura nel muro di Berlino. Quel papa polacco che mai ha criticato l'attività di Jaruzewski, definendolo un patriota. La mia vita è stata ricca di contraddizioni, aveva confessato al papa durante il loro incontro. La mia educazione è stata cattolica, ma alla fine ho fatto prevalere strade diverse da quelle imboccate. Un uomo dalla personalità imponente che ha perso contro il cancro la sua ultima battaglia. Sulle tracce di Caligola, al Vittoriano una mostra per celebrare l'operato della Guardia di Finanza a tutela del patrimonio artistico e archeologico. Ce ne parla Maria Lucia Pamucci. Ridotta in pezzi dai tombaroli che la trovarono vicina al lago di Nemi, salvata nel 2011 dalla Guardia di Finanza mentre stava per essere spedita in Svizzera e ricomposta durante un lungo restauro. La stato di Caligola in trono arriva per la prima volta a Roma, protagonista della mostra Sulle tracce di Caligola, allestita al Vittoriano fino al prossimo 22 giugno. Oltre alla colossale scultura, i visitatori potranno ammirare un corpus di opere provenienti dalle navi dell'imperatore, dalla sua villa sul lago e dal santuario di Diana Ricina. Fra queste è un cratere marmoreo decorato con la corsa delle bighe, una statua marmorea di Apollo e una copia in bronzo di cassetta, tutte del II secolo d.C. La rassegna è l'occasione per mettere in luce l'importante lavoro di salvaguardia dei beni dell'antichità compiuto dalla Guardia di Finanza. La mostra è l'occasione per riportare alla fruizione pubblica una scultura che si considerava ormai perduta, se non recuperata in estremis, e per riportare anche l'attenzione sul concetto di tutela. È necessario dire che ogni anno dal nostro paese vengono trafugate oltre 5.000 opere che rappresentano la nostra storia, la nostra cultura, e sarebbe come dire rinunciare ad essere il mosaico che è la nostra vocazione alla conservazione. Solo negli ultimi due anni sono stati recuperati oltre 11.000 manufatti, sottratte al commercio più di 136.000 opere contraffatte e denunciati circa 300 criminali. E proprio nei giorni scorsi è scattata l'ultima operazione della Guardia di Finanza, volta al recupero di corredi funerari etruschi, trafugati da aree archeologiche del litorale campano e laziale. Quando sbagliare un rigore può diventare un dramma. Da Roberto Baggio ai Mondiali USA 94, fino ad arrivare ad Alessio Cerci nel campionato 2014, il servizio di Stefania Fava. Un rigore sbagliato può cambiare le sorti non solo di una partita, ma di un'intera stagione clalcistica. E' quello che è successo domenica scorsa a Alessio Cerci, sbagliando il rigore che poteva portare in vantaggio il Toro nella partita con la Fiorentina. Se il Torino avesse vinto e il rigore fosse andato a buon fine, la squadra Granata si sarebbe aggiudicata un posto in Europa League. La partita, però, si è conclusa con un 2-2. Risultato inutile per la Fiorentina, che comunque si sarebbe qualificata per l'Europa League. Disastroso vi è il Torino che è rimasto a bocca asciutta. Tanti gli illustri precedenti di rigori mancati. Indimenticabile, ad esempio, la giornata del 17 luglio del 94, in cui si disputò la finale del campionato del mondo. Italia-Brasile. Arrivamo ai rigori e l'ultimo a tirare fu Roberto Baggio. Tutto lo stadio con il fiato sospeso. Da quel tiro si sarebbe decisa la squadra vincitrice. Baggio lo tira alto sulla traversa. E' l'unico calciato in questo modo da Roberto, come ci ha detto in tante interviste. Inutile dire che se il Brasile avesse segnato il rigore successivo, avrebbe comunque vinto. Ma ormai tutti ricordano solo il rigore troppo alto del Divin Codino. A seguire, nella maledizione dei rigori dell'Italia ai campionati mondiali, quello tirato da Gigi Di Biaggio nei quarti di finale di Francia 98, contro i padroni di casa. Questa volta il tiro prese la traversa e l'Italia dovette chiudere qui il suo sogno mondiale. Il telegiornale di Gunsang News termina qui. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie per l'attenzione e arrivederci.